Buongiorno guys! Allora, lo so, siete spaventati. Fiori che carico un video da 5 minuti. Cosa succede? Tutto bene? Sì, ma tutto bene. Per Natale vi faccio anche io il regalo che non carico un video da mezz'ora da 5 minuti. Allora, che cosa voglio fare con questo video? Semplicemente andarvi a ringraziare e fare un annuncio importantissimo. Allora, ringrazio di cosa? Soprattutto del sostegno che mi date ogni giorno a livello di interazioni, like, commenti, commenti bellissimi sotto ad ogni video, richieste, perché mi dite Fiori, fai questo video, mi interesserebbe. Quindi mi fornite anche idee, spunti e quant'altro. Senza di voi il mio progetto non esisterebbe, quindi grazie mille. E il secondo annuncio che vi voglio fare è che da oggi troverete sul mio canale disponibili gli abbonamenti. Grazie appunto a tutte queste interazioni ho raggiunto tutti i vari tasselli, gli obiettivi imposti da YouTube. E da oggi troverete disponibili tanti tipi di abbonamenti che hanno tanti benefit diversi, ok? Uno tra questi, che è il più importante, ve lo dico qua, gli altri ve li leggete voi, è che chi si abbona al livello 2 in poi può accedere alle mie live, che saranno solo appunto per gli abbonati, con contenuti, diciamo che dobbiamo vederlo come una chiacchiera da bar tra amici. Saranno live proprio dove andrò a fare quello che faccio nei video, ma in diretta con voi, col materiale che mi fornite voi, magari con dei vostri gameplay. Saranno una sorta di coaching di gruppo, ok? Non saranno i coaching privati, anche perché comunque sono da solo. arrivo a un certo limite, non riesco a gestire tutte le persone che vorrei gestire. Quindi, siccome mi piace poter aiutare chiunque, penso che fare doppia live mensile, con una buona quantitativa, un bel po' di ore, riusciamo anche a aiutare tutti quelli che magari non riescono, anche per tempistiche loro, a fare i coaching con me. Quindi, è una cosa interessante, commentiamo assieme qualche player, commentiamo qualche gameplay, mi fate le domande, analizzare qualcosa, discorsi del puntatore, armi da usare, discussioni in generale, chiacchiera al bar tra amici in live. E questa è una cosa interessantissima, più tante tante altre cose, gruppi telegram dedicati, tante robe. Ed è una cosa che io ignorantemente non sapevo neanche esistesse. L'ho scoperto quando anche altre persone hanno detto, guarda che forse hai sbloccato gli abbonamenti, io abbonamenti su YouTube. Se io sono rimasto al 2010, dove giocavamo con gli sniper, che c'erano i fates, e niente, è cambiato un po' il tempo, insomma. Mi son perso qualche annetto di evoluzione a livello social. Quindi, semplicemente, volevo fare questo video davvero per ringraziarvi, e niente, cosa devo dirvi? Grazie ancora, e vi aspetto in numerosi. Grazie a tutti ragazzi, grazie davvero. Ci vediamo con i prossimi video, non mancate. Ciao!